Ehi mamma. Mamma mia che cosa sta per accadere qui? Cosa sta per accadere? Oh. Eh? Sta per... Ehi, bravo, è qui. E' un po' di cia. C'è un po' di cia, c'è un po' di cia. No, è un po' di cia. E' un po' di cia. È un po' di cia. E' un po' di cia. E' un po' di cia. E' un po' di cia. Se si è visto, poi c'è un po' di cia. E' un po' di cia. E' un po' di cia. E' un po' di cia. Ehm... scusate. Questa mano tutto bene? Si. Sei sicura? Si. Già una conta vendita? Sì. Ricontale, sei sicura? Tutto bene quella mamma. Come mai? Da una cerchetta ma ci sono i fiori. Mamma non ci sono picchiati indirittura. Nooo. Ma non ci sono picchiati indirittura. E non girare, ma non ci sono picchiati.